Barbara Neri, madre di Federico Perugini, morto lunedì mattina mentre stava provando la moto del fratello maggiore, lancia un appello emozionato. A tutti voi ragazzi che vi svegliate una mattina pensando di andare a fare una bravata, per poi magari vantarsi con gli amici per dimostrare chissà che cosa, chissà chi. Non lo fate, vi prego. A volte le bravate si pagano con la vita e la vita ha un bene troppo prezioso da buttare via. Ascoltate i consigli dei genitori, degli insegnanti e di tutti quelli che vi vogliono bene, aiutatevi e proteggetevi fra di voi, amici, ve lo chiede la mamma di un angelo che ha volato via. Questa è la preghiera che la donna lascia come testimonianza del suo dolore sul sito del Forlicalcio, luogo dove Federico, mosso dalla passione per il pallone, ha iniziato i primi allenamenti. La società Forlicalcio si stringe attorno alla famiglia Perugini in questo profondo momento di dolore, si legge inoltre sul sito e continua. Ricordando con affetto il piccolo Federico, nostro tesserato, esprimiamo le nostre sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questa grave circostanza. I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa di San Giuseppe Artigiano attorno alle 14.30, dove sono attesi tanti giovani coetanei del ragazzo. La parrocchia, in attesa di tante persone, ha allestito un maxi schermo nel salone adeacente alla chiesa. Il rito funebre verrà ufficiato da Don Carlo Flamini con Don Gabriele Pirini. Nell'occasione saranno raccolte offerte per l'Anfas. Il corpo sarà cremato come richiesto dalla famiglia.